Perché vedete si può fare anche questa cosa qua Boom Boom Una porta di un magazzino Io d'ora in poi non le apro più le porte Le sfondo tutte Ok qua non c'era niente Di là avevi esplorato o... Ok vado a vedere se ci sono munizioni Sto guardando qua nel magazzino ma non c'era nulla Era solamente creepy Qua non c'è niente Vorrei sapere comunque cosa ci faceva uno sledgehammer in un ufficio Si prevedeva le costruzazioni Ok Niente di utile pare Cioè io sinceramente mi chiedo di più cosa ci faceva un BLR in un ufficio comunque C'è una foto Qua c'è un'immagine di... Cioè c'è un giornale E c'è tipo... Cioè parla di contagion Si autocitano Io comunque ho trovato una... C'è un revolver Però ho preso i colpi perché ho la... Ho la 45 Ok Fatto bene Ok andiamo Proseguiamo Non resta che salire Cosa? Porca vacca Un vetro Una cosa già successa Che ansia E poi la cosa bellissima è che se... Vieni un attimo qua Si E che se tentate di passare dal vetro Allora dite Ma chi se ne frega della porta Passo dal vetro? Non puoi Fantastico Ok Altri uffici Proiettili di pistola Yeah Aliti pesanti Altro qua non c'è Vediamo un po' qui Tre scale Uffici 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 Colpi di 45 Colpi di 45 Non puoi tenere Oh guarda qua Aspetta che apro la porta Eh un attimo sto... Sto esplorando Altri colpi di 45 Allora lo prendo io C'è... C'è un kurz Eeeh Ci sono 30 colpi di pistola Ok Piglia Permesso Salve Apriamo la... Accendiamo la torcia Qua che buio Nulla Ok Vediamo qui Qua c'era già stato Altri colpi di pistola Qua c'è una porta Quella giusta Giudicare Allora Maledizione Questo keycard scanner È rotto Eeeh Gli schemi mostrano Un'altra Entrata Da qualche parte Nel... Sul tetto Dobbiamo raggiungere il tetto Ok Controllato tutto qui Aspetta un attimo No devo ancora andare qua Ok Non approvo il tuo metodo Di apertura a porte Il metodo giusto è questo Comunque Tieni Spindaccione Che ha buttato i colpi là per terra Tieni Thank you Ok Ah Eeeh Sì Mi sa che qua Raggiungiamo il tetto Eeeh Zombie C'è una là che sta fissando Un buco nel muro Sta controllando se ci sono tarli Forse Vado Vabbè Eeeh Oh No No Bah Eeeh Era intangibile Quello muore Ne stanno arrivando tanti Eeeh Forse ci conviene andare sotto Via Prima che si buca Arrivano 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 Eccolo Si sono Guardali Guardali Si lanciano Ci hanno perso di vista Adesso ci hanno ritrovato E sono anche Scendolo Rotolando Dalle scale Che brutta scena Guardalo Guardalo Sto arrivando Vai Questo è tuo Notare poi Perché stiamo così distanti Molto spesso E quando uno È alle spalle dell'altro Non spara C'è il friendly fire E il friendly fire È davvero letale Basta un colpo Molto spesso Per uccidere una persona Comunque ridurlo In fin di vita Cioè I medikit Sono più rari che loro Ci sono degli zombie Che si lanciano Da sopra qua Quindi Attenzione I zombie cliffhanger Morto Ma ci sono Pagline Vado a fare un giro Ci sono Abbastanza zombie Ok Ma ne sento anche Sopra di noi Sono tantini Allora Usiamo bene le munizioni Uso il BLR Vai Io ti sto qua A fianco Almeno se ne arriva qualcuno Dai lati Ok Boom Arretriamo un po' Sì perché sono Sono troppo di Di lato Ok qui va bene Ok io Guardo Le altre porte Boom Boom Sì un trucco semplicissimo Per evitare di spiegare munizione Cercare di sparare Mentre Sono in fila I zombie vi vengono Contro Perché Ammazzali tu quelli Se sono Occhio 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 Arretra Arretra Ti ho detto Ammazzali tu No ma è E perché sono Stiti Due vasi E superi vasi Sono difficilissimi Da colpire Guardali Guardali Ammanno il vaso Dietro Dietro Madonna Ma da dove è arrivato Questo Dal tetto Porca puttana Thank you bro Niente Ok Sono andato su Uno zombie così Non visto O comunque Ci sono delle porte qua E c'è qualcosa dietro Sì eccolo là Mi ha visto Occhio Forse uno solitario ma Potrebbe anche non essere No Infatti sono tre Almeno Quattro erano Boom Boom Ok Controlliamo qua Proiettili BLR Yeah Una utilissima branch Utilissima E ci sono colpi della 45 Ricarico il BLR Qua non si può interagire con i tasti Sento rumori brutti di qua Cosa dovremmo mai fare? Dovremo Dobbiamo continuare Non riesco Sono al messaggio prima E non so come andare avanti Niente Torno indietro Vabbè Andiamo avanti per di qua Spero che quando arriva il prossimo messaggio Si metta a posto Vai C'è una porta qui E sento anche rumori brutti Controllo se non ce ne sono altri qua dietro Controllo la porta Madonna Ho fatto una cagata Ho sfondato la porta e ce n'era uno dietro Ok Non vedo Sento dei rumori qui dietro Olè Niente Però l'ho sentito Sto controllando la zona qua Cacchio Madonna 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 Gente che si deve cambiare Era dietro la porta Cioè l'ho visto che era dietro la porta Ma non sono riuscito ad ammazzarlo subito Madonna Eccoli là C'è questa C'è questa saracinesca Trancia uomini Occhio 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 che arriva Molto prince of persia Vediamo se trancia anche gli zombie No Guarda Ce n'era un altro Dov'è? Eccolo A posto Andiamo qui Occhio dietro le porte Non c'è Ok Ok Passo Vediamo se muori No Grazie Ecco Fa piacere che ci siedi molto Ok Di qua Sento rumori Attenzione C'è una Ah il muletto di prima Ok Quindi di qua Ah ce n'è una là in fondo E un altro qua Un altro qua Arrivano Attenzione Vai spara un po' tu Che sono un po' a corto Come è morto Aspetta che ne arriva un altro Come è morto rassegnato Quello Uam Esco Vai Ok qua non c'è nessuno Nemmeno dietro la porta Chiudo la porta E ce n'è uno qua C'è io Ok Ce n'è uno là E gli spara col BLR Vai Un altro in fondo Aspetta Lo vedo Sono tre In realtà ne stanno arrivando Tantissimi da lì E che l'ho colpiti ma Ok Forse ne faccio due Sì Ne arriva ancora un altro Se vuoi lo uccido io Vai quello è tu Blam Ok Da questa parte Frammenti di cervella Prendiamo la pistola Occhio dietro Le porte Ok Si gira e uccise me Apro Ok Uno zombie Uno che ha avuto un bruttissimo incontro con un estintore Ma molto brutto Mind blowing Ok vediamo se Ok great Ce l'abbiamo fatta ad arrivare ai laboratori Dobbiamo trovare una via per entrare Che qua c'è un bottone ma Aspetterei a prender Mi pare di aver visto Ci sono delle maschere antigas qua Mi pare di aver visto qualcosa passare da fuori Boh Sto controllando gli armadietti Ok Cosa c'è qui? Sei tu che hai aperto Chiuso una porta Sì sì Ok Sento Qua c'è una grata qui Ma dubito che possiamo entrarci Vediamo Devo buttare Una mazza da baseball No Non ci si arriva Cos'hai trovato? Le maschere antigas Maschere antigas Boh Tiriamole su Ah te la sei messa? Ah così Figo Questo si apre Oh C'è un allegro zombie lì Questa non si apre Ah è tipo Ah è tipo Stanza di decontaminazione Cosa È arrivato dall'altra parte? Ho detto qualcosa pure Però non ha Ne arrivano altri Vai Spari tu? Sì sì Ok Me la rido Come se la rido Blam Ne arriva un altro Vai Questo è tuo Dai Era tipo in posa Da permesso Ok È un altro Un altro Altri 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 Usiamo Il vecchio metodo Vai Questo è tuo Ok Un altro Blam Ok Ce ne saranno ancora Sì un'altra Eh l'aspetto io Vai Blatt Sai che ne arrivano ancora Vabbè Provo a premere Premo Ci decontaminano Arriva Arriva Occhio Eh non si apre più la porta Ok 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 Esco E miro Ok ce ne sono Là in fondo Vi faccio io Col BLR No L'ho mancato Guardala Ok Bella Ok Bella Doppia Questi Oh cacchio Oh cacchio Corri 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 Rientra dentro Rientra dentro Madonna Ma eh Adesso abbiamo un problema Forse Forse hai premuto Troppo presto Sì Corri Corri via Corri via Cazzo Vabbè che abbiamo la IED Eh dobbiamo controllarci Anche il culo Però Senti tu Guarda se arrivano Io ammazzo Quei rimanenti qua Sto controllando Dall'altro lato Mi sento solo Qui ce ne sono rimanenti Madonna Ok Morto qualcuno qua Ce n'è un altro lì Ancora uno lì alle stalle Fare si hanno rimasti di là Sono rimasti incastrati Potrebbero essere rimasti Nelle double door Sì perché non possono Se superano la prima Non possono più tornare indietro Eh ho visto ma Madonna Incontri di terzo grado Con il corazzato Madonna Anzi più che la Nemesi È il Nemesis Ok qua c'è del gas Credo che con la maschera Posso entrare Ok Allora Vado a vedere Dove sono questi qua Perché ho paura Che mi arrivino alle spalle Ok guarda Butta un occhio Fai un fischio Se Ho trovato dei colpi Qua c'è un pc Niente Ok È intrappolato a metà Non può arrivare da noi Bene Madonna Qua non c'è nulla Sto controllando Sto controllando Sto controllando Sti laboratori Bene Bene Un altro pc Ce n'è uno con del gas Qua niente E c'è un BLR Ah Vengo a prendermi i colpi Dove sei? Alla biblioteca Erano fanatici del BLR Ci sono anche colpi di pistola Lì sulla sinistra Sei qui dentro? Qua che Presi Hai già controllato Gli altri laboratori? No C'è alcuni Mancano quelli Della riga più Sull'estrema Destra Sinistra C'è Cazzo dico Può fare non esserci nulla Niente niente PC Non ho visto E PC Ah qua c'è una 45 sotto la scrivania C'è sempre la 45 sotto la scrivania Sei nel laboratorio col gas? Sì E non c'è nulla Niente di niente Ok Penso che li abbiamo guardati tutti Un altro PC Qua c'è una scala Ando ad andare su Una porta Hai trovato qualcosa? È arrivato messa There's a keypad block in the end Allora c'è Sì Cosa? 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 Vieni qua Arrivo Comunque dice che c'è una Porta Con un Tastierino numerico E dobbiamo trovare la La password Porta quale chi ha te? Arrivo Dove sei? Ok Ecco tu Dimmi 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 Dammi 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 Non ho più slot Eeeh E cosa butto? Lo stay jammer E butta lo stay jammer Butta lo stay jammer Mi dispiace È stato bello Stay jammer Ti sei anche compenetrato Con una Scrivania Ma va bene Dovevo trovare una password Una password Sì Ah Beh Era lì L'ho trovata Stavo per dirti Controlla i PC E l'ho trovata Va bene Di qua Allora Arrivo Ma credo di essere centrato In quel laboratorio Sono stato cieco Proprio Non ho visto C'era la granata E la password Vabbè Servirà ancora la maschera di gas? Mmm Non saprei Vabbè Prova a toglierla Ok Complimenti per il coraggio Via Tipo Sbarchiamo su un pianeta alieno Chi si toglie la maschera Per primo C'è una porta E c'è un bottone Ok 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 me la levo anch'io Allora Ascensore da banca Tipo cavo No Ascensore da Umbrella Corporation Anche da Umbrella Corporation Ok Schiccio al tasto No Ok Forse no Ok Vediamo un po' Ok Pausiamo qua E' tanto l'ascensore Vediamo quanto E' tanto